E' arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso dando tutte le mandate. Se è presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione a costi contenuti delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza a un vicino di casa al quale chiedere anche di ritirare la posta in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di iscrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo. Se tornando a casa trovate la porta su chiuse e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Buone vacanze dalla Polizia di Stato! Grazie a tutti!